Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura torniamo a parlare della operazione Masterlist, una intercettazione del 2015 svela come funzionava il sistema degli appalti e della corruzione collaudato proprio sugli appalti pubblici. Due anni di fitte indagini per scoprire come alcune ditte con la complicità di amministratori e funzionari pubblici si sarebbero spartiti il bottino. Vediamo insieme il servizio di Daniela Rosone. Facciamo come l'altra volta, 15 ditte e 10 sono le nostre. A parlare a telefono sono il vice sindaco di Canistro Paolo Di Pietro e l'imprenditore Sergio Giancaterino. L'intercettazione telefonica è datata 2015, quando Di Pietro era vice sindaco, oggi invece siede tra i banchi del Consiglio come consigliere. Per gli investigatori sta tutto qui, una telefonata, una frase che dimostra il sistema illecito utilizzato per controllare gli appalti pubblici. L'ultima operazione della squadra mobile dell'Aquila, Masterlist, scopre le carte e porta ai domiciliari sette persone, tra amministratori pubblici, funzionari e imprenditori. Un sistema collaudato, così è stato definito dalla procura di Avezzano. Un'indagine che in realtà si è mossa su due filoni separati. Uno è nato nella procura di Avezzano e si è sviluppato grazie alla denuncia di un imprenditore vittima di un sistema di tangenti, da parte di alcuni politici della Marsica. L'altro è arrivato invece alla procura aquilana per competenza ed è nato da intercettazioni telefoniche ed ambientali. Le gare coinvolte nell'inchiesta, lo ricordiamo, sono ben otto. Il comune di Canistro coinvolto con quella relativa alla sistemazione e ampliamento del cimitero, risanamento e consolidamento del cimitero della frazione di Canistro Superiore e la sistemazione del municipio di Canistro. Per quanto riguarda invece Campotosto, nell'Aquilano, gli appatti, come è noto, riguardano la manutenzione dell'area di campeggio Capparella, della struttura di vita centro velico denominata Casa dei Pescatori, l'implementazione di servizi per la realizzazione della rete idrica nella stessa area, la chiusura della riscarica in località Rapperduso. Per quanto riguarda invece l'unione dei comuni delle coline Teatine, di cui è capo Filex, comune di Casa Canditella, arrestato il sindaco, lo ricordiamo, l'inchiesta ha indagato i lavori di riassetto territoriale dell'area a rischio idrogeologico della località Colle Grande e del comune di San Martino sulla Marrucina. Per quanto riguarda infine il consorzio acquedottistico marzicano, il CAM, la gara per la manutenzione del depuratore di capistrello sotto la lente di ingrandimento. E come avete ascoltato dal servizio precedente, nelle maglie di questa operazione è finito anche il sindaco di Casa Canditella, Giuseppe D'Angelo. Il suo legale, l'avvocato Antonio Luciani, che è anche collega perché è sindaco di Francavilla al Mare, ritiene che il suo assistito possa dimostrare la sua estraneità ai fatti già dall'interrogatorio di garanzia. Dunque si dice convinto che ne uscirà pulito. Sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato questa mattina. I giudici stanno facendo un ottimo lavoro. Questa inchiesta era assolutamente un atto dovuto e noi siamo molto contenti che si operi per questi fini per la giustizia. Detto questo, in verità il mio cliente non ha nulla a che vedere né con episodi di corruzione né con episodi di turbativa d'asta. Ma questa non vuole essere un'accusa né agli inquirenti né ai magistrati che sicuramente ristabiliranno la verità. In verità ci sono persone che hanno millantato, che hanno fatto credere cose che non erano. Si sono presentate offrendo delle contribuzioni del tutto lecite per, magari che ne so, la festa del Paese, per beneficenza, senza collegare minimamente, senza che le persone potessero collegare minimamente queste contribuzioni a episodi di corruzione, perché mai è stato fatto nome di ditta, di appalti o di altro. Nel quadro accusatorio queste persone si sono dimostrate persone molto meno serie di quello che invece facevano ritenere. Bisogna ristabilire questa giustizia perché è evidente che il sindaco Giuseppe D'Angelo è una persona serissima che non ha mai preso un centesimo, che non ha mai voluto utilizzare fondi di provenienza in dubbia e soprattutto che non ha avuto mai nessun atteggiamento né comportamento che potesse in qualche modo mistificare gare o far vincere questa o quella ditta. Questo ovviamente deve emergere, deve emergere perché quando l'inquirente intercetta, ascolta conversazioni, è chiaro che si fa un'idea, un quadro e poi nella rete finisce pure qualche pesce che invece stava nuotando per fatti suoi in maniera del tutto lecita. Succede, io sono avvocato, sono esperto di queste cose e quindi so che questo capita. Sono convinto che già dall'interrogatorio lui riuscirà a chiarire la sua posizione a pieno. Andiamo avanti con il nostro giornale, restiamo alla cronaca giudiziaria. Torniamo sulla vicenda Sanitopoli, assolto l'ex governatore d'Abruzzo Ottaviano del Turco dall'accusa di associazione per delinquere nel processo, appunto sulle tangenti nella sanità abruzzese. Un processo che ha fatto molto discutere e nonostante innumerevoli accertamenti è arrivata questa assoluzione. Andiamo a vedere nel dettaglio il servizio di Daniela Rosone. L'ex presidente della regione Abruzzo, Ottaviano del Turco, è stato assolto dal reato di associazione per delinquere dalla Corte d'Appello di Perugia al termine del processo sulla cosiddetta Sanitopoli abruzzesi. Il collegio ha rideterminato per lui la condanna in tre anni e undici mesi, mentre nel processo di secondo grado all'Aquila gli erano stati inflitti quattro anni e due mesi. Poi la Cassazione ha annullato quella parte di sentenza, inviando gli atti a Perugia, come è noto. Dall'accusa di associazione per delinquere sono stati assolti, sempre perché il fatto non sussiste, anche l'ex segretario generale della presidenza dell'Aggiunta regionale Lamberto IV e l'ex capogruppo della Margherita in consiglio regionale Camillo Cesarone. Per l'ex presidente della regione Abruzzo del Turco i giudici hanno anche trasformato l'interdizione dai pubblici uffici da perpetua a cinque anni. Nel dicembre del 2016 la Cassazione aveva confermato la condanna di del Turco per induzione indebita per il presunto scambio di denaro testimoniato dalla famigerata foto della busta di mele, ma aveva annullato con rinvio la condanna d'appello riguardante l'accusa più pesante, appunto quella di associazione per delinquere. Anni e anni di processo quando in realtà delle presunte tangenti di Sanitopoli non si è mai trovato un euro, a parte qualche foto, dicevamo, sfocata, consegnata dall'ex re delle cliniche private Vincenzo Angelini nel 2006 e che avrebbe dovuto in realtà dimostrare la prova delle tangenti. Un processo che ha fatto molto discutere perché appunto le prove non sono state mai trovate. Le mazzette, dicevamo, nessuna traccia di queste, dopo indagini patrimoniali, bancarie e anche rogatorie all'estero. Proseguiamo con la pagina politica. Masterplan al palo e fondi europei non spesi. Questa la denuncia del consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo che parla di una regione ferma e di tante incompiute. Sentiamo Paolo Renzetti. Questa legislazione è cominciata ormai 40 mesi fa e è iniziata come Abruzzo facile e veloce. In 48 ore doveva aprire un'azienda ad Ortona che da due anni chiedeva di essere l'apertura. L'azienda è ancora chiusa, sono 40 mesi. Il masterplan è rimasto tutto sulla carta. Ci sembra che di enunciazioni ce ne sono tante ma di fatti ce ne sono pochi. E questo non lo dice solo Mauro Febbo, non lo dice solo il gruppo di Forza Italia. Mi sembra che gli abruzzesi ogni volta che ci sono dei sondaggi dimostrino che il Presidente torna indietro. Ci sono i sindaci che lo possono testimoniare. Vedi, il 15 ottobre scade per i comuni il termine della presentazione del piano neve che poi ricordate quello che è successo lo scorso anno. Mi dite ai sindaci come fanno a fare il piano neve se le ditte che lo scorso anno sono intervenute dando un aiuto importante ai comuni, alle province, alla regione. Oggi non hanno ancora ricevuto i fondi. Vogliamo parlare dei fondi comunitari? Beh, il PSR, siamo la terz'ultima regione, abbiamo speso il 5,26% dei 432 milioni di euro. Per il fondo sociale bisognava spendere 95 milioni di euro. Abbiamo fatto bandi, non speso, bandi, il che è diverso, per meno di 15 milioni di euro. Sul fondo dello sviluppo bisognava fare bandi per 130 milioni di euro. Abbiamo fatto bandi, ma non spesi, per 30 milioni di euro. Credo che questi sono dati reali, dati che possono essere certificati. I dati poi dimostrano che l'Abruzzo regredisce in termini di occupazioni, in termini di aumenti, in termini di disoccupazioni. Il Presidente ha una concezione dell'amministrare diversa rispetto a quelle che sono le procedure. Ecco perché i vari dirigenti sono scappati, ecco perché molti di quelli che si dicevano che dovevano venire e non sono venuti, ci sono delle procedure, ci sono delle regole, ci sono degli accordi di programma che devono essere seguiti. Bruxelles sta contestando la rendicontazione della programmazione 2007 e 2013, quella di nostra competenza, cioè i famosi 700 milioni di euro che noi abbiamo spesi al 100%, perché lui non fa ciò che le regole, le leggi, i regolamenti comunitari dicono e lui non riesce a capire che bisogna seguire le regole. E dalla Regione è arrivata pronta la risposta di Alberto Balducci che recita la percentuale di avanzamento del masterplan a 14 mesi dall'approvazione della Lilibera con cui il Cipe ha segnato le risorse, pari al 20%, un dato che pone l'Abruzzo ad un più 2% rispetto allo stato di avanzamento programmato dal Governo al 31-12-2017. Dica piuttosto febbo, continua Balducci, che fine ha fatto il suo masterplan, quello approvato dalla Giunta Chiodi, che è rimasto lettera morta. Per quanto riguarda i fondi europei, continua sempre la nota di Balducci, alla data odierna sul FESR, dotazione 222 milioni, sono stati pubblicati avvisi per 93,4 milioni e dentro il 31 dicembre verranno messi a bando 33,8 milioni. In merito all'FSE, la cui dotazione di 142 milioni di euro, sono stati pubblicati avvisi per 32 milioni di euro. Entro il 31 dicembre verranno messi a bando altri 33 milioni. Proseguiamo parlando della nuova Pescara. Il nuovo vertice del Comitato, dopo l'esito del referendum, chiede di ripartire con l'Iter per l'Unione dei Comuni di Spoltore e Montesilvano con il capoluogo adriatico. Si torna a parlare della nuova Pescara. Dopo il referendum di qualche tempo fa, l'Associazione chiede che ci sia una risposta delle istituzioni al risultato del test referendario. Sì, proprio così. Costituita l'Associazione, noi abbiamo avuto degli incontri con la persona individuata in regione per affrontare il problema. Devo dire da subito che la risposta è stata ottima. Ho parlato in più occasioni con Enzo Del Vecchio. Il primo risultato è che è stata chiesta una messa in calendario dell'approvazione del disegno di legge. Quello che noi chiediamo come associazione, premetto che siamo un'associazione della città civile, quindi fatta da tante associazioni che spaziano nei più ampi fronti, associazione assolutamente che non ha scopo di lucro, quello che noi chiediamo è che tutto l'iter venga ultimato entro il 2018, anche perché ci sono due anni di ritardo da recuperare, e che poi nel 2019, quando si potrà cominciare con le nuove elezioni, si vada a votare per un solo sindaco, quindi una sola città, quindi non tre città con servizi uniti, ma una sola città, come stabilito dal referendum. Andrete incontro però probabilmente anche a delle resistenze che c'erano state anche quando fu proposto questo referendum. Dunque, noi vogliamo sperare di non incontrare alcuna resistenza, perché il referendum è stato chiarissimo, in tutte e tre le città il sì ha vinto, quindi siamo di fronte a un dato di fatto, i cittadini hanno deciso di unire questa città, quindi le resistenze non possono esserci. Se ci saranno, ne dovremo prendere atto, certamente rimarremo molto delusi. Il pronti via del rapporto con le forze politiche è molto positivo, perché abbiamo riscontrato nel centro-destra, nel centro-sinistra, quindi nella maggioranza e nell'opposizione, la volontà di procedere anche speditamente per l'approvazione di questa legge regionale. Poi dovremmo verificare che alle parole facciano seguito i fatti. Proseguiamo con la pagina sindacale, andiamo in Val di Sangro, dove prosegue il braccio di ferro fra azienda e lavoratori e sindacati per quanto riguarda l'avvertenza della Oneiwell di Atessa. Le maestranze sono intenzionate a non fare passi indietro e a continuare con lo sciopero, nonostante le pressioni della multinazionale franco-statunitense, che chiede il ritorno al lavoro dei propri operai. I sindacati nel frattempo chiedono al Ministero dello Sviluppo Economico di appoggiare la loro posizione a favore del sito produttivo della Val di Sangro, che è un unicum a livello italiano, mobilitati anche i sindaci del territorio e la regione. Vediamo insieme il servizio. È un'avvertenza tutta in salita, quella dalla Oneiwell di Atessa. L'azienda scrive ai dipendenti dicendo di voler sostenere il dialogo per risolvere rapidamente la situazione in ogni sede, dai sindacati al Mise e dalla regione ai dipendenti. Ma c'è necessità di assicurare la ripresa della produzione al più presto per evitare l'impatto negativo sul rapporto con i clienti. Fuori dai cancelli invece resistono le maestranze che assieme a FIOM, FIM e Wilm non arretrano di un millimetro. Il ministro dello sviluppo economico, dicono in coro, deve prendere le nostre parti, mentre il tavolo romano del 2 ottobre non è ancora stato confermato. Primiano Biscotti, segretario FIMC, Svechieti. Noi al ministro, a differenza di altre vertenze, che magari coinvolgono aziende presenti sul territorio nazionale con più siti produttivi, noi chiediamo al ministro di prendere una posizione ben precisa. In gioco c'è un sito produttivo che non ha gemelli sul territorio italiano. Quindi il ministro non è un mediatore in questo caso. Il ministro deve prendere posizione forte e chiara a favore di questo sito produttivo, perché l'alternativa è che queste produzioni vanno all'estero. A sostegno della protesta ci sono anche i sindaci del San Graventino. In Trenta hanno partecipato alla manifestazione davanti alla fabbrica De Turbo. Tutti in fascia tricolore, i primi cittadini si faranno portavoce delle stanze e di lavoratori e sindacati presso la politica regionale. E a ribadire il ruolo centrale del governo è anche il segretario nazionale Wilm, Michele Lombardo. Noi abbiamo bisogno dell'attivazione del tavolo al ministero dello sviluppo economico, di aprire una trattativa vera con l'azienda attraverso il governo e dobbiamo discutere di un nuovo piano industriale che garantisca i livelli occupazionali, il mantenimento dell'apertura di questo sito industriale e la scongiurata possibilità di una delorganizzazione delle produzioni. Andiamo all'Aquila, un pronto soccorso oncologico finanziato dall'Aquila per la vita grazie a due borsi di studio da 22 mila euro. Il protocollo d'intesa è stato sottoscritto fra ASL e Università e firmato in Comune. Vediamo. Un pronto soccorso psicologico per pazienti oncologici è un'iniziativa della Ollus Aquilana all'Aquila per la vita che consentirà di promuovere la formazione psicologica del personale medico-infermieristico afferente alle strutture ospedaliere e territoriali relativamente alla comunicazione con i pazienti nelle varie fasi della malattia per poi inserire lo psicologo nelle strutture ospedaliere e territoriali della ASL e tenerlo a disposizione per interventi relativi e coordinati con l'attività esterna. Il protocollo d'intesa tra la Ollus, l'Aquila per la vita, l'ASL e l'Università è stato sottoscritto oggi in Comune alla presenza del sindaco Pierluigi Biondi che si commuove ricordando Mauro Zafferi. Le borse di studio infatti sono dedicate a lui, socio storico dell'Aquila per la vita. Voglio dire una cosa alla quale noi teniamo e dell'Aquila per la vita è che le due borse di studio che finanzieremo sono dedicate a un nostro socio fondatore che rimane nei nostri cuori, nei cuori di questa città, cioè Mauro Zafferi. Il progetto ha lo scopo di sostenere i malati oncologici prima, durante e dopo la malattia perché il supporto psicologico è un elemento fondamentale anche per sconfiggere il male. La gestione economica del progetto sarà a totale carico dell'Associazione L'Aquila per la vita che metterà a disposizione due psicologi. La selezione dei due psicologi e il conseguente conferimento delle borse di studio avverrà tramite selezione. Il bando sarà pubblicato sul sito dell'Università dell'Aquila. Il compenso complessivo previsto per la borsa di studio è di 22.000 euro per singola borsa di studio. Ancora una volta L'Aquila per la vita a disposizione della città e a due giorni dalla presentazione della fisioterapia che verrà fatta a casa per le donne operate di tumore al seno un altro tassello importante si aggiunge all'attività della Ollus che ormai fa parte del DNA della città dell'Aquila. Continua questa importantissima collaborazione tra l'As e l'Aquila per la vita. Noi siamo veramente orgogliosi e onorati che questo avvenga. Anche oggi l'impatto che avranno questi interventi per noi e per le persone che ne saranno coinvolte saranno particolarmente rilevanti quindi io dico solo grazie all'Aquila per la vita. Il loro impegno noi lo apprezziamo molto e li ringraziamo di avere queste sensibilità nei confronti della nostra ASL. Gonfalone della città di Lanciano, palloncini gialli e blu, una sciarpa rosso-nero e una piazza gremita hanno dato l'ultimo saluto al vice sindaco della cittadina frentana Pino Valente nei funerali che sono stati celebrati ieri pomeriggio nella cattedrale della Madonna del Ponte in piazza Plebiscito. Vediamo. Lanciano in lutto abbraccia il suo vice sindaco Un lungo applauso accompagnato il feretro dalla camera ardente allestita nella casa di conversazione alla cattedrale della Madonna del Ponte Sono gli amici il fratello Roberto a farsene carico tra le lacrime fino ai piedi dell'altare Una chiesa gremita ha partecipato commossa al rito funebre ufficiato dall'arcivescovo Emilio Cipollone Pino non ha mostrato i segni del potere, ha detto citando Don Tonino Bello ma ha lasciato il potere dei segni e voi che siete qui, così in tanti, lo dimostrate Il gonfalone di Lanciano l'è stato a lutto per la prematura scomparsa di Pino Valente 47 anni, vice sindaco e assessore a bilancio e lavori pubblici Cuore e mente al servizio della gente ha ricordato ancora il vescovo con una grande passione per la sua città Lo dico lo faccio, chissà se Pino sapeva che il suo slogan era già nelle sacre scritture dice ancora il vescovo ricordando di averlo conosciuto nella campagna elettorale del 2011 Alla funzione ha partecipato tutta l'amministrazione comunale esponenti di maggioranza e minoranza e anche una ventina di sindaci della provincia dal primo cittadino di Chieti, Umberto Di Primio ai sindaci di Guardia Grele e Ortona da Fossa Cesia a Treglio e Villa Santa Maria Una sciarpa sulla bara e uno stricione per ricordare la sua fede rossonera e poi le testimonianze degli amici di Progetto Lanciano e ancora prima di Frentania Provincia l'associazione che lo fece conoscere attraverso le prime battaglie sui temi della sanità e dell'ambiente Anche la regione Abruzzo con il consigliere delegato Camilo D'Alessandro ha testimoniato la passione di Valente per la sua città e il territorio Infine il sindaco Mario Pupillo è stato un fratello, leale e sincero come in politica non è facile incontrarne Voltiamo pagina adesso Da aprile a luglio di quest'anno 50 etichette di vini d'Abruzzo hanno oltrepassato la manica alla conquista del mercato britannico grazie all'iniziativa Abruzzo in 50 wines L'iniziativa punta a far conoscere la produzione vitivinicola il territorio regionale a buyers e consumatori del Regno Unito Vediamo 50 etichette abruzzesi per far innamorare i palati inglesi è stata questa la sfida del progetto Abruzzo in 50 wines organizzato dal consorzio di tutela vini d'Abruzzo in collaborazione con il centro estero delle camere di commercio abruzzesi e cofinanziato dalla regione Abruzzo con i fondi del PSR Abruzzo 2014-2020 che ha coinvolto da aprile a luglio 40 aziende vitivinicole sia sul territorio britannico che nella nostra regione Per 4 mesi dunque 50 vini selezionati alla cieca da un panel di esperti degustatori inglesi sono stati protagonisti di numerose iniziative con l'obiettivo di rinnovare l'interesse nei consumatori nei buyers britannici verso le doc abruzzesi Montepulciano in primo luogo e poi Trebbiano d'Abruzzo e Cerasuolo Abbiamo voluto rafforzare e cercare di sviluppare attraverso azioni anche innovative rispetto a quelle che ordinariamente portavamo avanti per cui abbiamo cominciato dando agli stessi a un'agenzia inglese la possibilità di selezionare quelli che erano i vini più adatti per quel mercato e poi attraverso cene tematiche attraverso incontri B2B e B2C in location anche importanti di Londra anche con due temporali bar abbiamo voluto far apprezzare sempre di più i nostri prodotti Un milione e mezzo di euro previsto dal piano di sviluppo rurale per quanto riguarda la misura promozione in particolar modo il mondo del vino si è garantito oltre un milione di euro per promuovere questo prodotto meraviglioso in Italia e nel mondo grazie all'azione del Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo si è realizzata questa azione specifica sul mercato della Gran Bretagna il quarto mercato più importante al mondo ovviamente è un mercato in uscita dall'Unione Europea e quindi è stato strategico investire su questo territorio e su questa nazione i dati ci danno ragione negli ultimi anni abbiamo avuto un aumento delle esportazioni importanti il vino continua a crescere bisogna puntare molto sulla certificazione e quindi sui mercati ma soprattutto sui prodotti DOC e DOCG A Pescara domani si terrà la notte dei ricercatori che vedrà lo svolgimento di numerose iniziative di carattere scientifico aperte a tutti presso l'Aurum e l'Icranet di Piazza della Repubblica Il 29 settembre Pescara ospiterà questa manifestazione la notte dei ricercatori Professor Ruffini vogliamo spiegare di cosa si tratta? Ci sono due attività, uno presso l'Icranet che celebriamo il primo Carlo Pace Award che viene dato a degli studenti che hanno collaborato con l'Icranet diffondendo la cultura che abbiamo sviluppato scientificamente nei licei di Pescara Questo Carlo Pace Award celebra il fatto che Carlo Pace è stato fantastico nel promuovere tante attività nella città di Pescara ma anche l'istituzione dell'Icranet Quindi questo award viene dedicato a una bravissima studentessa che adesso è in Inghilterra e ai due professori che hanno mediato la presenza dell'Icranet nei licei e faremo una mostra a presentare anche una nuova attività di tre volumi uno su Fermi e l'astrofisica uno su Fang Ligie e uno su Marcel Grossman Questi tre volumi saranno pubblicati in inglese nelle varie lingue ma anche pubblicati in italiano e saranno annunciati qua la mattina del venerdì Notte dei ricercatori iniziativa di un'importanza straordinaria con un contatto diretto per far conoscere meglio e nel dettaglio il ruolo di persone normali ma nel loro lavoro straordinari rispetto alla ricerca e questo credo che sia essenziale soprattutto per i giovani, per gli studenti e non solo Mettiamo in contatto i ricercatori che hanno l'opportunità di presentare i risultati delle loro ricerche e metterli a disposizione del territorio metterli a disposizione delle famiglie dei giovani, dei bimbi che sono molto interessati io ho partecipato anche alle precedenti giornate dei ricercatori e ho visto un grandissimo interesse anche da parte dei bimbi ci sono ricercatori che attivano laboratori che appunto hanno la possibilità di far capire l'importanza del lavoro che svolgono Ed ora passiamo allo sport iniziamo dal Pescara andiamo ad ascoltare le parole di Zeman che è stato intercettato a Coverciano l'allenatore del Pescara tra i vari argomenti ha parlato anche del momento di Biancazzurri dopo gli ultimi quattro pareggi consecutivi sentiamo Quanto manca al Pescara per fare il salto di qualità? Ancora questi sbandamenti, queste amnesie continue difensive? Noi siamo squadra giovane cerchiamo di imparare non è facile vi dico che in questi momenti non giochiamo è il calcio che ci piacerebbe ma stiamo lavorando per quello Tanti sottolineano che la grande novità è rappresentata dai pareggi Vabbè sono pareggi anche se sono pareggi strani nel senso che abbiamo pareggiato da 3 a 0, da 2 a 0 solo ultimo è stato 0 a 0 che è strano di solito perché le squadre di solito giocano per cercare di fare i gol Continuiamo a parlare del Pescara l'esterno sudamericano Baez torna sui pareggi che in questo momento stanno caratterizzando il percorso in campionato del Delfino difficile dice l'ex Fiorentina a spiegare cosa accade ascoltiamolo Il ruolo degli esterni d'attacco è fondamentale e cruciale negli schemi di Zeeman a che punto sei nell'assimilare questi schemi? A me piace tanto giocare lì d'esterno tanto a destra come a sinistra e lui dà tanta importanza a questa posizione e quello per me è troppo importante perché sempre sta in gioco sempre partecipi di tutte le giocate e niente penso che è troppo importante stare lì e stare bene Guarda, io come miei compagni penso che tutti possiamo dare tanto alla squadra ma io personalmente penso che sono uno veloce che ha tecnica e posso fare bene gli avanti Questo pareggio a Cremona molto diverso da quelli precedenti avete un po' una sindrome del pareggio perché le rimonte subite possono un po' restarvi nella testa anche se poi Cremona è stato un pareggio diverso rispetto agli altri Sì, sì le partite scorse penso che è difficile guardare la partita e dire cosa è successo perché neanche noi sappiamo cosa succede quando stiamo lì avanti e prendiamo quei gol ma qualcosa sicuro dobbiamo cambiare e stiamo lavorando per quello e dopo il pareggio ora con Cremona e in Cremona a Cremona penso che non serve ma neanche così è brutto il risultato che magari possiamo dare importanza in queste partite precedenti Questa è l'intervista di Andrea Costantini chiudiamo la pagina dedicata al Pescara con le designazioni arbitrali sarà Daniele Minelli di Varese il direttore di gara del match di sabato prossimo tra Carpi e Pescara il fischietto Lombardo sarà coagliuato dagli assistenti Mauro Galetto di Rovigo e Cristian Rossi di La Spezia quarto ufficiale Riccardo Anna Loro di Collegno Scendiamo di categoria in Serie C per parlare del Teramo dopo la sconfitta sul campo del Pordenone il difensore Nebil Kaidi chiama a raccolta il pubblico per la delicata sfida di domenica contro la fermana dell'ex Marco Sanzovini Jacopo Forcella Nebil Kaidi Pordenone è veramente indigesta l'anno scorso 3-1 quest'anno 4-2 insomma una trasferta e proprio al Teramo non va giù Sì penso che Pordenone sia indigesta a tante squadre in questo momento perché comunque io come diceva la tua collega sono rimasto veramente ben impressionato da quella squadra anche se comunque noi secondo me non abbiamo approcciato bene a questa gara eravamo un po' titubanti abbiamo sbagliato tantissimo però devo dire che giocavamo sì è un campo che purtroppo si fa fatica perché loro sono abituati è un campo stretto e quindi molto diverso da come siamo abituati noi non è un alibi però ecco voglio dire abbiamo affrontato secondo me una squadra attrezzata e mentalmente forse un gradino sopra di noi in questo momento anche perché domenica a Teramo arriva una squadra che ha appena fatto cinque gol con Lupoli che ha fatto una tripletta arriva Sanzovini insomma il reparto avanzato della fermata fa paura in questo momento sì sì è una squadra che in questo momento ha trovato una quadratura importante il mister ci ha già accennato due o tre cose e quindi ci sarà ci sarà del bel lavoro per per la difesa ecco quindi però ecco sono convinto che non sono stati comunque errori di reparto ci sono stati più magari ingenuità individuali così che quindi li mando stando un po' più attenti più concentrati si può sicuramente fare meglio e me lo auguro perché comunque da difensore quale sono non mi piace ecco questo Fermana e Feralpi il Bonolis può fare la differenza in che modo? ma spero nel modo come Ravenna ecco perché con Ravenna è stato bellissimo è piaciuto tanto il pubblico di domenica scorsa e quindi spero che ci sia la stessa gente o anche qualcosa in più che ci diano a mano perché con Ravenna sinceramente sono rimasto ben impressionato è tutto per la prima edizione del TG6 io vi ricordo il prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 19 grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.